buongiorno a tutti voi car tablet dedicato a ford fiesta del 2009 per alcune ford fiesta come in questo caso specifico monitor originale colore rosso non andiamo a recuperare nei comandi radio e nei comandi al volante ma questo perché ci troviamo di fronte a una ford fiesta particolare col display rosso mentre in altri video vi abbiamo dimostrato che altre fiesta con il display blu andiamo a recuperare tutte le funzioni nonostante che abbiamo il canvas funzionante qui abbiamo vi segna l'anomalia il bag perché lui in origine ha un problema il black poi gestione sportelli gestione aria condizionata possiamo andare a gestire comunque il car tablet in modalità vocale apri la radio aumenta volume diminuisci volume cerca avanti cerca indietro fai partire la musica traccia successiva traccia precedente attiva la navigazione apri youtube togli audio chiudi lo schermo accendi lo schermo torna alla pagina iniziale processore sonoro possiamo eseguire lo split screen torniamo in visualizzazione singola vi ricordo che tutti i nostri prodotti sono disponibili per essere del nostro shop ci ci vediamo un pochino tra un pochino con altri video